Si è inaugurata oggi la 44esima edizione del trofeo internazionale Città di Arco Beppe Viola. Sentiamo una sintesi della detto stampa Nello Morandi. Non sono mancate le sorprese nella prima giornata della 44esima edizione del torneo internazionale Città di Arco Beppe Viola, riservato alla categoria allievi, perché le squadre, o comunque alcune tra le squadre che erano considerate le favorite alla vigilia, hanno dovuto segnare il passo. In particolare è successo al Milan che aveva peraltro una partita abbastanza insidiosa perché il Chievo è una squadra che in una partita secca può giocare brutti scherzi e così è stato perché i giovani rossoneri che in campionato sono secondi alle spalle dell'Inter ma sopravanzano di qualche lunghezza il Chievo hanno perso seccamente per 2-0 e si è rivisto sul tabellino dei marcatori quel Bismarck-Ngissa che già lo scorso anno si segnerò qui ad Arco come bomber scelto con 7 reti ad attivo. Anche l'Inter ha imparzialmente deluso, i ragazzi di Cauè infatti si sono fatti imporre il pareggio dai danesi del Nordgelland che si sono battuti benissimo, se è vero che hanno avuto anche a favore un calcio di rigore che poi hanno sbagliato. Nella partita principale tra la squadra che l'anno scorso ha vinto la 43esima edizione del torneo cioè la Juventus ed il Napoli il lustre assente è stato il gioco una partita brutta come poche altre volte ci è capitato di vedere tra queste due squadre una specie di festival degli errori che si è risolto a favore della Juventus per 1-0 con un calcio di rigore generoso concesso dall'arbitro Schifo che poco prima aveva negato però un rigore più evidente sempre ai bianconeri. Il Napoli avrebbe potuto avere più di un'occasione per pareggiare però gli avanti partenopei non hanno brillato per precisione e freddezza davanti al portiere. L'arco è stata la vittima designata dell'Atalanta, Atalanta solida squadra di centro classifica del girone B del campionato nazionale allievi professionisti, 5-0 il risultato finale che è maturato soprattutto nel secondo tempo quando le maggiori qualità tecniche ed atletiche degli atalantini hanno fatto la differenza sui ragazzini dell'arco. Partita abbastanza interessante e soprattutto vivace credo la più bella partita di questa prima giornata, quella tra Lazio e Torino, cioè tra la seconda squadra del girone C, la Lazio, seconda squadra alle spalle della Roma e il Torino che è prima squadra del girone A. Ne è venuto fuori un 2-2 che lascia intatte le possibilità delle due squadre di qualificarsi al turno successivo. Per concludere resta da raccontare della vittoria di misura per 1-0 del Verona con il Sassuolo e anche dell'altra vittoria sempre di misura della Fiorentina sulla rappresentativa del Trentino. Un'ultima nota la riserviamo al Parma che, travolto dalla crisi societaria, non si è fatto comunque condizionare ed ha avuto ragione, magari per 1-0 solo, ma ha avuto ragione, della Lega Nazionale Direttanti.